Successo per la serata di premiazione dei vincitori della tradizione del Presepe Ibleo, rassegna di Presepe in TV. Quattro le sezioni in gara, ciascuna delle quali sono stati assegnati il primo, il secondo e il terzo premio. E per ogni sezione si è vista anche l'assegnazione del premio web, vinta da chi ha ricevuto più mi piace nella foto pubblicata sulla pagina Facebook Tradizione del Presepe Ibleo. Per la sezione scuole, il primo premio e il premio web sono andati all'Istituto Giuseppe Rogasi di Pozzallo. Per la sezione famiglia, il premio web va a Gianluigi Vernuccio di Scicli, il terzo premio a Francesco Floridia di Rosolini, il secondo premio ex equ a Pina Gerratana di Ispica e Giovanni Zocco di Pozzallo, il primo premio a Salvatore Giannone di Pozzallo. Per la sezione enti, associazioni, negozi, il terzo premio ex equ è andato al comando provinciale dei Carabinieri e all'agriturismo Monzovile di Ragusa. Il secondo premio al Giardino di Bianca, Santa Croce Punta Secca, che si è aggiudicato anche il premio web. Infine, il primo classificato è stato Giorgio di Rosa, parrucchiere di Ragusa. Per la sezione parrocchia, il terzo premio al Monastero della Visitazione di Rosolini, il secondo premio al Santuario del Sacro Cuore di Rosolini, mentre il primo premio è il premio web alla Basilica Annunziata di Ispica. Soddisfazione per i vincitori, a cui oltre all'attestato di partecipazione sono stati consegnati parecchi premi messi a disposizione dagli sponsor del programma. La serata è stata condotta da Giorgio Fratantonio con la collaborazione di Piero Pisana e la partecipazione di Isabella Papiro. In conclusione, il brindisi finale con lo spumante del cinquantesimo anniversario di attività messo a disposizione dal concessionario Peugeot e Citroen Giovanni Cappello. E' una cosa che non mi è mai riuscita. Meno quattro, tre, o tre. Buon leggero. Buon leggero. Auguria. Auguria.